Sono in 10, 1 Basilia, 2 Brina Laumar, 3 Bianca Dipa, 4 Brina Di Risaia, 5 Benara S, 6 Blis del Circeo, 7 Ballerina Egralotto, Baltimor Azac. In seconda fila 9 Brigid ZS, 10 Borea Caf. Stacco della macchina con Brina Laumar e Brina Di Risaia, avanti a Bianca Dipa, poi Bedara S, Guibirilli, Basilia, 200 iniziali in 13,8 con Brina Laumar, leader nei confronti di Brina Di Risaia, quindi Bianca Dipa, Blis del Circeo, c'è Bailamal, completamento dei 400 sull'errore di Bianca Dipa. Davanti intanto Brina Laumar, può curare il giusto, continua a comandare a piacimento nei confronti di Brina Di Risaia, la mossa in terza corsia, a parte i Basilia, addirittura terze, quarte e quinte ruote, gente che si aggancia. Brina Laumar e Brina Di Risaia si sono incastrate fra di loro, agli 800 iniziali, Better A.S ne approfitta per prendere margine alla compagnia. Si va al completamento del chilometro in 1.15.1, guida nei confronti di Brigi ZS a largo, Basilia richiesta dalla corta, cerca di venire fuori, Blis del Circeo, attacco della piegata finale con Better A.S in vantaggio, 15 e appena abbondante l'addirittura opposta, non ha la destra libera Brigi ZS che ora cerca di buttare via a Basilia. Lugui Virilli, Ballerina e Igrala a lato, Blis del Circeo, la retta d'arrivo con Better A.S che mantiene 1.30 in margine, viene un po' in su così che Brigi ZS prova a ributtarsi dentro, Blis del Circeo che vorrebbe anche finire veloce all'interno di Basilia, ma non ha troppo spazio, Better A.S che replica la vittoria dell'altro giorno e vince netto davanti a Brigi ZS e Basilia. 2-2 il totale, 37 gli ultimi 4, come detto il raddoppio della vittoria ottenuta 48 ore fa da Better A.S. Massimo Di Muro ancora alla tre in sta volta nei mani di Antonio Vitiello perché è una gentleman nei colori della TBA SRL. È successo un po' di tutto sul percorso, ciò non toglie che ha vinto la più meritevole. Meritevole al secondo, Brigi ZS al terzo, Basilia 5-9-1. L'arrivo della seconda. Grazie. Grazie.